Abbiamo un gruppo di ruote che portano chiaramente in moto fino alla ventola sul rocchetto calzante ci sono impressi due capiglie a 180 gradi l'una dall'altra nel modello a partitora o spartiora secondo come lo vogliamo chiamare le caviglie sono identiche non sono diverse che siano fatte a mezzaluna o siano fatte come queste nella specie modello parricina formate da due caviglie identiche a 180 gradi l'una dall'altra le due caviglie lavorano con questa leva la leva dell'alzata che è una leva che è simile a una V sono alla stessa distanza sì, sì, tutte e due uguali simmetiche perché in quella rastrella non sono simmetiche oppure sono ad altezza diversa e la V una delle due palette serve a lavorare con una delle due caviglie in maniera alternata una per l'ora e una per la mezza non c'è ora e mezza qui non esiste non esiste una caviglia per le ore e una caviglia per le mezze esiste invece un quadro un labbero quadro che viene a posizionarsi in modo tale che quando la caviglia lascia nel momento in cui la caviglia lascia la leva la lancetta deve essere sulle 12 o sulle 6 ma dice ma allora sono in assi no, non sono in assi non ci interessa come sono mi interessa che quando questa gira, passa cade la lancetta deve essere posizionata sulle 12 o sulle 6 non cambia niente dice ma non lo fa non si può modificare il quadro il grano la boccola che sostiene la lancetta viene leggermente un po' alleggerita ci mette un quadro e una volta che si è un po' alleggerita si mette un quadro e si forza fino a ottenere la centratura allora quando l'orologio è in funzione ogni mezz'ora la caviglia va a alzare la leva a V la leva dell'alzata si alza e il momento in cui la caviglia cade e la leva cade giù si disimpegna dalla caviglia questo suona ora come l'altra volta alla lavagna ho spiegato ma qui si vede bene tanto metto l'occhiale alzo gira giro e così si vede anche bene ecco per esempio per adesso siamo a dieci minuti prima dell'intera qui saremo sei sette minuti a questo punto a questo punto è partita la suoneria cioè la suoneria è già libera falla a dire la poi vedremo vedremo l'interno la leva d'arresto è già fuori ha già liberato la caviglia della ruota d'arresto l'ha già liberata cioè la ruota è libera di girare e qui siamo a tre quattro minuti dall'intera in quattro minuti quante ne suonerà questo orologio ma ne suonerà due o trecento quattrocento colpi perché perché non li suona perché nel frattempo la leva a V la leva dell'arresto una delle due dei due compassi serve per eh lavorare con la caviglia della del rocchetto calzante l'altro compasso eh che viene alzato chiaramente perché sono solidali ha nella eh inserito una paletta che poi si potrà anche andremo a controllare una paletta la paletta lavora in questo eh in questa asola e il momento in cui si alza la sua posizione va a interferire la rotazione della ruota della della preparazione la ruota della preparazione come la ruota d'arresto ha una caviglia quando la leva sta in posizione di partenza nella sua posizione originale ecco di riposo la leva la caviglia la piccola leva che sta qui sotto non interferisce con la rotazione della ruota della preparazione la ruota e la preparazione libera di girare ma è il momento in cui io la alzo la ruota sotto va a bloccare la caviglia e il ruotismo si riblocca facciamolo suonare sì il ruotismo ora è libero però la paletta della leva della preparazione sta bloccando la ruota della preparazione il ruotismo è libero ma c'è l'ultima ruota che viene bloccata pertanto ho sbloccato la ruota d'arresto sì ma mi sei bloccata la ruota della preparazione perciò tutto il ruotismo è bloccato solo quando e lo tengo qua solo quando questa questa leva la parte una delle due leve della leva a V cadrà in basso libera potrà liberare la ruota della preparazione della suoneria e l'orologio suona quanto suona suona fino a quando il tastatore si trova su una delle tacche che c'è nella ruota nella parte superiore nella parte superiore quando entra all'interno della dell'asola si blocca si blocca perché la leva che è questa del tastatore è tutto solidale questa e questa sono solidali la leva dal resto è solidale al tastatore quando il tastatore sta nell'asola come adesso la leva dal resto interferisce con la caviglia quando il tastatore viene tenuto in alto da una delle tacche che ci sono la ruota la caviglia della ruota dal resto è libera di girare perciò se io lo alzo se io lo alzo così fino a quando il tastatore che è questo non cade nella prossima tacca questo suona e fino a qui in linea di massima quali sono le particolarità le particolarità sono intanto che qui abbiamo una stella che serve per alzare il martello la ruota dell'alzata del martello è suddivisa in tanti settori e ogni settore è suddivisa ad archi come fosse una torta e alla fine di ogni linea dell'arco o taglio dell'arco c'è un piolo una caviglia una caviglia in questo caso c'è una stella in quanti settori viene divisa non lo sappiamo è solo che un giro un giro della ruota d'arresto che è questa ruota che arresta la suoneria un giro deve permettere alla caviglia di alzare il martello e andare oltre in soldoni ogni giro della ruota dell'arresto un colpo e per dare un colpo ci vuole una caviglia o una punta della stella ma questo non è difficile aprirlo è chiaro la logica è quella quando dove come la posiziono questa ruota la devo posizionare in modo tale che quando si blocca la suoneria perché la ruota d'arresto la caviglia della ruota d'arresto si blocca sulla leva dal resto il dente deve aver fatto fare un colpo al martello e poi fare in modo che il colpo successivo per il colpo successivo la caviglia non sia a contatto con con la leva cioè che la leva la leva del martello non sia a contatto con la caviglia ma ci sia un po' di spazio un piccolo spazio che gli permetta di prendere la rincorsa così quando inizierà a suonare non ha subito da alzare il martello ma a prendere ma è libera e così prende la rincorsa che poi arriva il martello e lo si dà su basta meno forza a quel punto sì esatto bravo bravo uno nelle dove c'è le caviglie è chiaro non puoi fare nulla devi solo spostare la ruota girare la ruota in modo tale che quando la ruota con la caviglia d'arresto è a contatto con la leva dell'arresto sono a contatto la ruota precedente che è quella con le caviglie del martello abbia la caviglia lontano un pochino dalla leva del martello e per fare questo devi spostare i denti rispetto al rocchetto fra una ruota e l'altra il che può essere noi usati basta i denti basta cosa hanno fatto cosa hanno fatto il ci sono due sistemi quello tipo parigina più antico quello originale ha anche però un ponticello si allenta la vite si toglie il ponticello si sfila la ruota da senza chiaramente senza aprire il meccanismo tiro sulla ruota disaccoppio ruota e rocchetto giro la ruota di quello che mi serve un dente 2 quello che serve lo riposiziono e controllo negli orologi più moderni perché questo sistema si trova anche negli orologi moderni e non solo guardate negli orologi compartitori ma anche quelli a un rastrello c'è la stella che è a frizione c'è la stella giro la stella e la posiziono senza fare niente la stella la posiziono qui fa come meglio mi aggrada grazie a tutti